Napoli tra le capitali del turismo 2023, questo è un dato da evidenziare. Da evidenziare però anche le mille difficoltà che i turisti hanno una volta arrivati a Napoli. Il caos ieri è regnato sovrano, con momenti di forte agitazione soprattutto tra i quartieri spagnoli, una zona da poco abituata alla grande moltitudine di persone che si arrampica fino a via Emanuele Dedeo, per ammirare il murales di Maradona e che ieri ha vissuto momenti di forte tensione tra urla, schiamazzi e malori. Una regolamentazione andrebbe presa in considerazione, così come un regolamento andrebbe messo per quanto riguarda i bed and breakfast. Ci sono palazzi a Napoli dove ormai intere scale sono adibite ad appartamenti da fittare, con chiari problemi per gli inquilini che pensavano di vivere in appartamenti signorili e che invece si ritrovano a scendere le scale tra bivacchi di giovani e bottiglie di vetro. A questo proposito è intervenuto anche il ministro del turismo Daniela Santanchè. Sul tema degli affitti brevi servono nuove regole, ha detto il Far West deve finire. Le poche regole esistenti non vengono applicate, serve una regolamentazione vera e stiamo anche aspettando ciò che elaborerà l'Europa. E poi il ministro fa sapere di aver attivato un tavolo con tutte le associazioni di categoria ascoltando le varie stanze. Insomma, a breve sembra che si andranno a definire nuove regole, tenendo però conto di alcune peculiarità, ad esempio nei piccoli borghi dove non ci sono strutture ricettive, l'affitto breve è l'unica soluzione. Inoltre, afferme il ministro, per noi la proprietà privata è sacra, dunque se una famiglia decide di affittare una stanza non è giusto impedirlo. Discorso diverso invece se tu affitti con questa formula 20 appartamenti. Servono regole, quello che ho in mente scontenterà qualcuno e questo mi confermerà che sarà una regolamentazione giusta. Le parole del ministro del turismo Daniela Santanchè.